Allora Franky, gruppo musicale britannico Punk New Wave, per cui l'introduzione che ho fatto prima riguarda appunto i Cure. È un gruppo nato nel 1976 Franky in Inghilterra e sono ancora attivi e sono tutti vivi. Questo è un applauso ai Cure che hanno resistito anche alla legge di picture stalking. Esatto. Però lui è cambiato. Come? Lui è cambiato, vedo dalle immagini, non è più lo stesso. Anche lui al tempo ha solcato un po' il suo viso. Certo. Quindi nella metà degli anni Ottanta sono diventati strafamosi in tutto il mondo con questo brano che Fede mi ha proposto. All'attivo hanno 27 album Franky con 28 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Pazzesco, direi. Robert Smith, Franky, che è il fondatore, il cantante, è polistrumentista. Pensa che suona chitarra, basso, batteria e organo, tastiera. È un personaggio, Franky, che somiglia un po' a Caos, come i capelli. Vedi com'è. Ma in realtà sono io, non lo sapevate. Sì, pensa che è talmente un personaggio che si può permettere di presentarsi con capelli cotonati, con rossetto e con matita sugli occhi. Ha 61 anni, Franky, e non è diventato padre per scelta perché sentendosi, diciamo, auto-inciplinato ha preferito non fare figli. Per me, Franky, è tutto e sempre rock and roll, ragazzi.